Tracciabilità dei rifiuti, raccolta a porta a porta nel centro storico della città che raggiungerà in una prima fase il 30% della popolazione, creazione di otto isole ecologiche e attivazione di altri due centri di raccolta, oltre quello di Cammarella, uno in via Salvo d'Acquisto e l'altro al villaggio Santa Barbara. Posizionamento in diversi punti della città di cassonetti intelligenti, questi alcuni punti strategici del nuovo piano rifiuti presentato dal sindaco Giovanni Ruvolo. Un piano che sarà in vigore per sette anni e che entro tre anni consentirà di raggiungere il 65% della raccolta differenziata, con un risparmio del 17% in meno sui costi rispetto al precedente piano e permetterà inoltre agli utenti virtuosi uno sgravio sulla tassazione dei rifiuti. Questo piano riguarda fondamentalmente il cambio di visione rispetto ai rifiuti. Fino ad oggi il rifiuto è stato spazzatura, quindi materiale che è stato portato in discarica e che è costato per la nostra comunità cittadina dei costi che non sono più sostenibili, ma soprattutto ci ha allontanato dalla cultura del riuso che sta caratterizzando invece l'evoluzione in Europa di questo aspetto, che invece considera il rifiuto una risorsa. E allora questo piano parte dal presupposto che dobbiamo potenziare fortemente la differenziata, consentendo al cittadino di vedere ridotta la tassa che riguarda proprio il costo della gestione di questo servizio, proprio in funzione di una riduzione significativa del conferimento della discarica, ma soprattutto perché gli enti preposti al recupero pagano questi rifiuti e quindi questo diventa una possibilità di entrata e quindi riduzione del costo per il comune di Caltanissetta. Ma la cosa interessante è che assieme a questa progettualità stanno nascendo delle iniziative locali che promuovono l'imprenditoria giovanile, soprattutto giovanile, dentro la filiera del recupero. Quindi il materiale elettronico, la plastica, il vetro, la carta, possono diventare un'opportunità di lavoro all'interno dell'economia locale. Un discorso a parte è per l'organico, che è la parte dei rifiuti domestici, dei rifiuti di cucina cosiddetti, che a oggi non hanno una gestione perché mancano i centri di compostaggio, manca la filiera del prodotto. Su questo con gli altri comuni stiamo lavorando per creare un impianto che possa gestire l'umido e possa consentire di ottenere composto o addirittura un impianto di biogas che possa ottenere del gas che potrà produrre energia e calore.